22. L'emanazione La via della conoscenza attraverso Attilio M Soggetto Assoluto e relativo Assoluto e relativo Assoluto e relativo Ripeto tre volte per indicarvi come questi due termini stiano fra loro inseparabilmente Non si può dire assoluto senza dire relativo Non si può dire relativo senza dire assoluto Questa è la questione che noi vogliamo affrontare ovvero sia che cosa congiunge l'assoluto e il relativo dal punto di vista logico e dal punto di vista ontologico Vedi più però Ciò che collega assoluto e relativo Non è una ragione di intrinsecità logica Ma è una ragione che ha origine nella natura stessa dell'assoluto In quanto è emanante Che cosa voglio dire con questa affermazione figli cari Che l'assoluto nel momento in cui si offre a se stesso emana? Ho detto si offre a se stesso proprio per indicare come al di fuori dell'assoluto Nulla c'è e quindi quando emana non fa che offrirsi a se stesso Naturalmente come vi abbiamo già detto in altri momenti Parlare di emanazione relativamente all'assoluto E' limitare l'assoluto Perché vuol dire vedere l'assoluto con occhi umani Purtuttavia ci serve questa visione parziale Ci serve per aiutarvi a capire Come già vi è stato detto nell'ultima riunione Dunque quando si parla di emanazione Si parla anche di come l'assoluto può dare origine al relativo Voce della quiete Vaiano Chiocciola Gmail Punto com Purtuttavia 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 Purtuttavia